Una webcamera, un'aula tecnologica e un programma speciale per permettere agli studenti che hanno problemi di mobilità agli arti di scrivere, disegnare e risolvere equazioni. In una delle tre nuove aule informatiche dell'Istituto Buzzi, realizzate col contributo della provincia, è stata attrezzata una postazione speciale. Questo è un face mouse che utilizza le capacità residue degli alunni che hanno difficoltà nel movimento degli arti. E quindi attraverso il movimento oculare si punta la lettera, in questo caso è un programma di scrittura, e si iscrive. Nelle aule gli studenti del triennio stanno lavorando anche a un nuovo progetto per la realizzazione di siti web accessibili, proprio partendo dall'indicazione e i contributi dei ragazzi con disabilità. Faceva il computer e quindi volevo vederlo più da dentro. Non solo programmi e postazioni speciali, ma anche lavagne. In realtà sono delle tavolette come un tablet o un iPad che si utilizza in rete con tutti i collegamenti software che possiamo connettere, un telefono, un computer, una penna USB, e queste consentono di fare, di scrivere, di andare, di navigare in rete e di fare tutte le attività didattiche, come la presentazione dal singolo computer la possiamo visualizzare sullo schermo intero.